Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like, inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'entusiasmante periodo estivo del calciomercato è già in pieno svolgimento, e l'AD dell'Inter sta dimostrando di essere all'altezza della sua reputazione, cercando di riflettere i trionfi del passato. Se negli anni 80 e 2000 la Serie A brillava come un faro per i giovani talenti, oggi la dinamica è diversa, ma non mancano comunque gemme da scovare. Josip Ilicic ha certamente lasciato il segno, soprattutto con l'Atalanta, ma la sua carriera è stata una montagna russa, con momenti alti e bassi accentuati dalla pandemia globale. Ora, gli occhi sono puntati su Benjamin Sesco, un promettente talento sloveno che ha attirato l'interesse di Milan e Inter. La maglia numero 72 potrebbe ben presto diventare il nuovo emblema dell'eredità slovena nella Serie A, portando freschezza e speranza per il futuro. In un panorama calcistico che continua a evolversi, Sesco rappresenta una possibile svolta, un giovane di talento destinato a catturare l'immaginazione dei tifosi e a lasciare un'impronta indelebile nel campionato italiano. La sua ascesa potrebbe essere il prossimo capitolo affascinante in una storia che vede l'Inter impegnata a plasmare il proprio destino, cercando di ritrovare la gloria di un'epoca d'oro. In un contesto dove il calcio italiano sta vivendo una fase di trasformazione, con nuove sfide e opportunità, l'attenzione si concentra su talenti emergenti come Sesco, pronti a scrivere il proprio nome nella storia del calcio italiano. Sarà interessante seguire da vicino questa possibile evoluzione, nella speranza che il giovane sloveno possa diventare il fulcro di una nuova era di successi per l'Inter e per il calcio italiano nel suo complesso.